Oggi si conclude la prima stagione qui su Cristal Radio di Good Morning Milano che è iniziata l'11 settembre quando alle 7 del mattino qualcuno ha detto Good Morning Milano Lorenzo Masieri, eccolo qui con noi, buongiorno Ciao a tutti, buongiorno a tutti cari Cristallini Ben ritrovato, ben ritornato, come stai? Grazie mille, tutto bene, voi? Bene, bene Vi ho seguito tantissimo Sì, non l'hai mai ascoltato perché sappiamo benissimo che a quest'ora tu se non c'era l'obbligo di venire qua Sì, diciamo che ho gli orari invertiti Diciamo che c'è il podcast Puoi recuperarci con il podcast, va bene Insomma Lorenzo, abbiamo iniziato l'11 settembre l'anno scorso non è passata di acqua sotto i navigli No, sui navigli, anzi, su sotto L'acqua sotto Eh sì, sì, però cosa è cambiato? Cos'è cambiato Fabio, aggiornami un po' Allora ti dico la verità Io da quando abbiamo finito ai primi di gennaio Sì, primi di gennaio Bentornato Lorenzo intanto, arriva un whatsapp d'Alberto Grazie, grazie Alberto Allora, cosa è successo? Che praticamente, se il mio livello informativo prima era, che ne so, 80 Si? Si è ridotto a 5 Ok, perfetto Quindi mi devi un po' aggiornare sulle vicende Allora, prima di tutto ti ragiono Anche se mi è stato detto, io racconto sempre questo aneddoto Che anche qua poi l'informazione è piano piano Non è vero, non capisco chi ti aveva dato questa notizia Siamo andati sempre più sull'entertainment Eh beh, quasi Infatti guarda, Lorenzo, ci mancava la tua voce su Ava alle 8 del mattino Doveva un whatsapp da Marilena Grazie Marilena Grazie Marilena Io cerco, ho cambiato voce nel frattempo Ho cercato anch'io di diventare proprio Lorenzo Masieri La mia voce su Ava e ripeto che è sempre data dalle 2 ore di sonno Benissimo Beh ma tante novità, scusa Milano Cioè no, ci sono lasciati che Carlo Monguzzi ad esempio Era il capogruppo dei Verdi in comune Niente Niente E noi, e noi che eravamo Radio Carlo Monguzzi Quante volte è stato fatto questo jingle? No, Elisa puoi dire che l'ho fatto tipo l'altro ieri? No, no, l'ho fatto Sì, si conferma No, no, no No, conferma C'è un podcast l'altro ieri Abbiamo letto la notizia dove Monguzzi era arrabbiatissimo Per la nuova nomina dell'assessore alla casa del comune di Milano E ho detto appunto Radio Carlo Monguzzi Ci sono state le europee nel frattempo Ci sono state le europee, sì Ci sono state le europee Nei comuni intorno a Milano Nei amministrative Quindi insomma Abbiamo avuto su Milano News il dibattito Tra i candidati sindaci di Stato Milanese L'ho visto qualcosa Vedi? Quindi no, cosa ne è successa No, si sta scherzando Si sta scherzando Ad esempio Questione stadio, l'hai seguita? Zero Grande novità Noi ci siamo lasciati Che volevano radere al suolo San Siro Ti dico a gennaio più o meno Ci siamo lasciati che volevano radere al suolo San Siro Costruirne uno a Rozzano E uno a San Donato Allora in realtà sulla carta è ancora così Ma sembrerebbe che invece no Il sindaco Sala ha detto Ristrutturiamo San Siro E tutti contenti Adesso sono lì che insieme a WeBuild A fare i render di come si può ristrutturare lo stadio No, vabbè, come Santiago Bernabeu L'abbiamo sempre detto Eh, ma infatti mi sembra E quindi anche lì Carlo Concuzzi si è arrabbiato Ma perché Perché quella è prassi Quella giustamente è prassi Io sono veramente contento Che alcune cose non siano cambiate No Da inizio gennaio Poi cos'è che è successo? Cos'è che è successo di importante a Milano? Ma, non so Oggi ad esempio Scusa se prendo un attimo di tempo così Oggi ad esempio è il compleanno di Simone Lunghi L'Angelo dei Navigli Quindi insomma Ad esempio è una data importante Chissà che magari fra qualche anno Non saremo a casa Perché sarà il nuovo patrono L'Angelo dei Navigli Simone Lunghi Non più l'8 di dicembre Facciamo il patrono Ma il 28 giugno 7 7 dicembre Scusi Io lo sbaglio sempre Sbaglio regolarmente E no perché l'8 è l'immacolata Eh sì E quindi lo sbaglio sempre Tra 7 e 8 Non so perché E poi Cos'è che Allora Avevamo iniziato Dicendo Eh, la stagione dei concerti Che sta appena conclusa Eccetera eccetera Adesso siamo nel mezzo Della seconda stagione dei concerti Ma Senza concerti in contemporanea Uno ce n'è stato in contemporanea Ma soprattutto perché Cosa è successo? No, non ci sono più concerti in contemporanea Diciamo tra San Siro e Ippodori Tranne mi sembra Una data No, il 30 giugno Mi sembra che ci sarà Una sola posizione grossa Ma il problema è un altro Non si hanno fatto i conti Con il Latin Festival A Quinto Romano Che ha fatto saltare Tutto il banco Perché ci sono i concerti In contemporanea C'è la navetta Che ti porta Da Piazza dell'Otto Fino a là I posteggi Che la gente Non sapeva poter sposteggiare Quindi in realtà Ci avevano provato Ma alla fine Ha fatto su un disastro Da alcune notifiche di ATM Mi pare che ce ne sia stato Un paio di settimane fa Però potrei tranquillamente sbagliare C'è sicuramente il tema della Maura Dove ormai è veramente ingestibile La gestione dei concerti Tanto che Quando uno dei primissimi concerti Hanno chiuso anche i residenti Non l'ho fatto passare neanche i residenti Hanno chiuso agli autobus ATM Non passavano agli autobus dell'ATM Cioè è una roba veramente assurda Infatti insomma è successo un po' di tutto Tutti un po' arrabbiati Faccio un Faccio un coming out Coming out Per varie ragioni che non vi sto qui a dire Mi sono trovato fuori dal concerto di Lana del Rey All'ipodromo La Maura Perché sei una delle ragazze di Lana del Rey Tu sei una gruppi di Lana del Rey Lo sappiamo No Io al massimo sono stato una bambina di Conte Ai tempi del Delle bimbe di Conte Delle bimbe di Conte Esatto Ai tempi della pandemia C'era più gente fuori No c'era più gente fuori che dentro No però era pieno 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 di gente E ho notato che era tutto completamente blindato Fuori ai mezzi di trasformazione Sì 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 Non era impossibile Che è bellissimo come idea Se fossi In un'isola deserta Lì però c'è abita della gente Ci passa della gente Ma tra prende Se poi pensa che Chiudono le strade Ti è già partire dal mattino Quindi c'è una roba Allucinante Comunque vai Però vabbè Comunque Dopo Mi sa che oggi è l'ultima puntata Non lo so te l'ho detto Ma certo Sono qua apposta Se no questo lo sai dove ero Ma per ora vi devo dire una cosa Sapete quel problema Quando è andato via a gennaio Si è andato via le chiavi dello studio Io non ho potuto chiudere lo studio fino ad oggi Perché era lui Oggi Si è tornato a chiudere Sì Oggi è chiuso Poi basta Lasciami le chiavi sotto lo zermino Che almeno a settembre Posso capire senza scomodarti Anche se Anche se Potresti diventare Sicuramente in apertura In chiusura Mi chiamerai Bravi Se vedo che l'hai già capito Ne sono sicuro Allora Io invido Al signore David Letterman Ok Io invido tantissime cose Una cosa non l'invido Perché ce l'ho più bella di lui Che è la barba bianca Perché devo dire La verità è più bella la mia della sua Ma invidio il fatto Di aver avuto Bill Murray Come primo ospite Della prima puntata Del Letterman Del late show Di Letterman E come ultimo ospite Quindi ho deciso Che io tutti gli anni Avevo il mio Bill Murray Che sei tu Ok Quindi tu tutti gli anni Devi venire qua Mi devi citare anche una parte Di Ghostbusters A questo punto è deciso adesso Devi imparare ogni anno Una scena nuova di Ghostbusters E tu sei il mio Bill Murray Allora Mi tengo libero Mi tengo libero Per inizio settembre 9 settembre 9 settembre Alle 8 del mattino Sei qua Sappilo 9 settembre Alle 8 del mattino O sei in vacanza 9 Ok Adesso mi racconti le tue vacanze Perché secondo me Andrai al mare Così ho questa idea Perché tu sei uno da mare Così Anzi lo dice anche Anzi sono da mare mare Eh da mare mare E lo dice anche infatti Luca Carboni Mare mare Luca Carboni Il mare che potremmo vedere da domani Qui da Good Morning Milano Ma che in realtà Invece a me non piace il mare Quindi non andrò al mare Quest'estate Invece Lorenzo Masieri Dove vai in vacanza? On the road On the road again Rientro dall'inglese Perché come sai Non lo so bene No Faccio un giro Faccio un giro In campeggio Ok Si va verso La Costa Brava Però non Quella troppo turistica Ok L'Ore de Mar No Ci fermiamo un po' Prima di L'Ore de Mar Un po' Prima di Tossa de Mar E si sta lì Un po' di giorni In base a come Se ci si trova bene Se ci si trova male Cavatina Barcellona Ok E poi si torna Sulla Costa Azzurra Non turistica Anche lì Vorrei trovarla Una Costa Azzurra Non turistica C'è una zona Tipo San Raffaele Che è molto Antiba Sì Antiba Antiba Ma turistico Sì certo Turistico Infatti comunque A una quarantina Di minuti d'Antiba Abbiamo individuato Qualche campeggio Che potrebbe essere Per poveri Per poveri Sì beh ovvio Esistono cose per poveri In Costa Azzurra? Non lo so Spero Spero di sì Spero di sì Infatti io Io ho idea Di mangiare fuori Sì Tutto il tempo Quei cinque giorni O quelli che sono Sei sette in Spagna Ok E poi arrivare in Francia E fare un po' Gran scatolette di tonno Esatto E poi cucinare Ho portato due fornelli Quest'anno Due Non uno Non uno Due Due Quattro bombo Le due Due fornelli Ma io l'anno scorso Ho fatto la pasta Con le sarde In campagna E l'anno scorso Ti fai fatto a fare la pasta Con le sarde in campagna Avevo un fornello Una pentola E una padella Quindi sei molto limitato Nelle cose Avevamo un frigo In cui non ci puoi tenere Certamente le robe Ti scadono In tempo Due ore Infatti E allora C'era il pancarree C'era il barattolino Di alici Ho detto Vabbè Mettiamo da brustolire Sto pancarree Quindi hai fatto il pancarree Brustolito E poi Scanellato Con i pomodorini Poi Ci ho buttato Le alici E poi ho buttato la pasta Ed è stata L'apice culinario Raggiunto in campeggio Ecco E adesso Ovviamente Allora Dobbiamo parlare Del tema che ci Tiene più legati A Lorenzo Masieri Che è la sua Oltretutto in questi giorni Che stanno finendo Le prove D'esame della maturità Adesso Carlo Porta Credo che stiano ancora Facendo gli ultimi orari Credo In questa settimana Io l'ho fatto il 9 luglio Bene Quindi vedi te Carlo Porta Scuola in cui siamo stati Il Settimana scorsa Quando è iniziata Il 19 giugno Mi sembra fosse Se non ricordo male Il giorno della prima prova Di esame di maturità Stessa scuola In cui tu Hai fatto L'esame di maturità Perché hai fatto con la scuola Mi permetto di dire Con ottimi risultati Sentiamoli Ma manco ti ricordo 94 94 94 su 100 Giusto Non era 94 su 94 No no Non sai mai Comunque 94 su 240 No Era 94 su 100 Perfetto Ok E È stata nominata Più volte Anche questa mattina Prima di invitarti A entrare in studio La tua famosa Cheesecake Sì Raccontiamo Quanto tempo ho Quanto vuoi No allora Scherzi a parte Nel corso dell'anno scolastico Sarà stata la quarta No Sì No forse eravamo già in quinta Il nostro professore di pasticceria Ci chiede di fare Una sorta di contest In cui sostanzialmente divideva la squadra La classe in quattro gruppi E ognuno doveva preparare un dolce da portare a una commissione Perché ci sarebbe stato un pranzo con gente relativamente importante In quel del Carlo Porta E loro avrebbero avuto appunto una scheda su cui valutare l'aspetto Il sapore La presentazione eccetera Chiaramente la classe si è divisa in le ragazze bravissime Le ragazze brave Le ragazze molto brave E i ragazzi fancazzisti Io chiaramente ero tra le ragazze bravissime Lo sappiamo Due pirla Sappiamo già che facciamo la stessa battuta Ero tra i ragazzi fancazzisti Che Faccio Ma le squadre C'è una domanda Quanti ragazzi fancazzisti c'erano più o meno? Noi eravamo 25 ragazze e 6 ragazzi E questi 6 ragazzi fancazzisti Non si potevano mischiare insieme? No Questi 6 ragazzi fancazzisti hanno detto Noi ci chiudiamo a Riccio Team Ok E mentre gli altri gruppi erano lì Cioè con i romani chiusi con gli scudi così a corte Io ho visto dei bozzetti Dei bozzetti degli altri gruppi bellissimi Dei bozzetti In cui disegnavano il dolce eccetera eccetera Settimane prima noi Che non ce ne fregava niente sostanzialmente Niente Giocare con la playstation Lo dico chiaramente Lo dico chiaramente Giallo zafferano il giorno prima Mamma mia E abbiamo trovato questa cheesecake all'arancia Ok Abbiamo fatto questa cheesecake Che il nostro professore ci guarda come Come state facendo Che adesso dobbiamo presentare Quello lì si presenta con la sfera di panettone Con dentro la confettura E voi presentate con la cheesecake Voi avete fatto una cheesecake all'arancia presa Abbiamo vinto Ma come avete vinto Abbiamo vinto Ve lo giuro Altro che il miracolo contro la Croazia Quelle cose lì No Abbiamo vinto Ma è stato incredibile Perché non ci credevamo nemmeno noi Neanche le altre Vi posso assicurare Vabbè ma io vi denuncerei Forte di questo successo Ho deciso di ripresentare la stessa cheesecake All'esame di maturità il 9 luglio Ok domanda Eri solo l'unico che ha ripresentato la stessa cheesecake Anche gli altri del gruppo hanno pensato di rifare No no Ah ok Sono tu Quindi oltre si è andato bene Oltre anche perché Come si può ben immaginare Io puntavo tantissimo sul dolce Non certo sulle altre materie Puntavo tantissimo sulla pasticceria E niente è andato bene È andata bene comunque alla fine Hanno apprezzato Hanno detto era meglio quell'altra Ma come avete fatto a vincere Dopodiché complimenti a Giallo Zafferano Questo Giallo Zafferano Dov'è? Davanti Giallo Zafferano Questo poi dobbiamo tagliarlo Elisa Questo è uno spot incredibile Questo è uno spot incredibile Io ho vinto Noi 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 abbiamo vinto con la vostra cheesecake Una competizione all'interno del Carlo Porta Una delle più rinomate scuole alberghiere A Milano forse la più rinomata Grazie appunto alla vostra cheesecake Abbiamo battuto ragazze che disegnavano i loro dolci Avevano progetti Avevano in mente un gusto Un'esperienza Un'experience Noi Ci scherca l'arancia Così Ma io non sono senza parole Sono senza parole Perché già questa storia era assurda all'inizio Adesso che mi hanno raccontato tutto a fine di dettagli Tutto a fine di dettagli Tutto a fine che non l'ho mai raccontato No, così di dettagli no infatti Quindi va bene Ovviamente la pasticceria non è stata poi il tuo futuro Gli altri sei del gruppo cosa non c'ho vita a fare? Di uno sì Ah, vedi, vedi Sì, sì E fa robe molto belle Vedi, vedi Ma lui era bravo comunque Era dentro il gruppo dei fancazzisti un po' per Per amicizia Per amicizia, sì No, poi c'era chi era più fancazzista Tipo te E chi meno Tipo lui E tipo lui Infatti lui ha continuato in quella Bene, bene, bene In quell'ambito Benissimo Allora andiamo con un po' di musica adesso Poi torniamo qui di nuovo dopo una piccola pausa pubblicitaria E continuiamo fino alle 9 Qui in diretta su Crystal Radio Io sono venuto per ascoltare una canzone Quale? Luciano? No, dopo te la metto Adesso andiamo con Willy Peyote Dai Nelle discoteche abbandonate Max Pezzali, ragazzi Ieri, l'ho detto fuori onda Ieri ero a vedere una cover band di Max Pezzali A Carugate Cane Grate No A qualcosa che finisce in Ate Sì, qualcosa che finisce in Ate Per quelle zone Sicuramente c'è una festa da birra, immagino Esatto Beer Fest Beer Fest di Grate Ate Brianz Karate Brianza Karate Brianza Karate Brianza Benissimo Max Pezzali che appunto A giorni farà il concerto Giusto a San Siro Poi a Torino So che c'è Tipo se non mi ricordo male Sì ma sta facendo O l'ha appena fatto a Torino Sta facendo il tour negli stadi Con 15 anni di ritardo E vabbè o prima che stava troppo No ma dico Cioè meno male Perché se lo merita Io sono contentissimo Quando l'ho visto Sono impazzito L'ho visto un sacco di volte Però fa strano che Max Pezzali E tu dici È una seconda volta San Siro Questo Eh sì sì Quando invece non so Spera e basta Ha già fatto più concerti No Non è vero No 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 perché è la seconda volta Ma l'altra volta ha fatto più di una serata Esatto due concerti Ok quindi Diciamo che al momento Al momento Spera e basta E Max Pezzali Hanno gli stessi San Siro San Siro Pensa a te Pensa a te Vasco E ciao 30 Mi ricordo che Quando avevamo fatto Tre anni fa Un articolo su San Siro Abbiamo messo E già Vasco Era primo Con quasi 30 concerti San Siro Adesso nel frattempo Ne ha fatti Solo 7 quest'anno Il prossimo anno non viene però Hai visto? Il prossimo anno non viene Ma vado io da lui Io l'ho detto ai miei amici Ho detto ai miei amici Escludo solamente Messina Ok ma per motivi logistici Per motivi logistici E Firenze Per il fatto che sia l'ippodromo del Visarno E non ti piace l'ippodromo? No Perché parliamo di questo problema con i cavalli e l'ippodromo Qual è il problema? Mi hanno fatto Ho perso tutto Hai perso tutto l'iscommenso Quindi non riesci più a vicinarti No scherzo Qual è il problema? No banalmente Non mi piace vedere i concerti all'ippodromo Perché sei troppo distante Costano quanto un concerto allo stadio E poi io ti assicuro Che quest'anno sono andato a vedere Vasco sul Prato Perché lo voglio vedere lì A San Siro? Sì E lì c'è un coinvolgimento pauroso Ero più volte girato quasi dietro A vedere sto muro di persone Ok Che Vasco Quindi stai dicendo che la prossima volta Cioè sarai tra il muro di persone? No Mi vai in scadina No no Prato però dentro lo stadio Ah perché ti piace la coreografia anche dello stadio Sì sì Poi ragazzi il coinvolgimento che ti dà Vasco Ma tu che segui Vasco da sé Ma avevi fatto dei concerti non negli stadi Vasco? In un palazzetto Non vale L'ultimo turno dei palazzetti Credo che sia Poco prima del 2010 Ah ok Quindi l'ha fatto Poi dal 2010 Adesso dico 2010 Poi magari 8 7 Non lo so Da lì in poi Solo grandi eventi Solo stadi Va bene Ricordiamo che abbiamo avuto 7 date a San Siro La sua dimensione 7 date a San Siro quest'anno 4 credo a Bari 4 a Bari 2 le ne ha già fatte 2 le ha già fatte Ha fatto 15 giorni praticamente qua Hanno affittato per 13 giorni Mi sembra Lo stadio Quanto costa affittare San Siro Allora Allora Ve la do con Il pinzo Che a me sembra Veramente una cifra bassissima Una cifra che ho sentito Dire però Solo l'affitto puro L'affitto Senza neanche Le lenzuole E gli asciugamani Non è arredato No senza Senza la colazione inclusa Ok 40.000 euro a serata Vabbè Lo prendo per una festa di laurea Infatti Mi sembra poco Però potrebbe essere Effettivamente che è proprio L'affitto Cioè Boom Te lo prendi Non ti do niente Entri lo guardi E te ne vai fuori Cioè nel senso Poi in maggio ci siano Spese escluse Bolletta Cioè Quanto paga di bolletta Da corrente Un concerto di Vasco E anche quello è vero Cioè Quanti kilowatt ci saranno lì Quasi come quelli di Springfield Del signor Barnes Cioè una cosa del genere Cioè Poi per tutta la sicurezza Sì infatti Tutte le deviazioni Nella viabilità Non lo so Lo cercheremo Cioè quanto costa Quanti milioni Perché sono milioni di euro Ti costano Un concerto del genere Cioè sicuramente Beh c'è anche da dire Che sono 60 mila Vasco forse anche un po' di più Quasi No per i concerti Tra i 55 E 60 mila Dovrebbero essere Una media di 100 euro Biglietto Media Perché Fai 90 Sì insomma Perché su Là in alto Paghi quanto 60 euro Il terzo anello Ma giù nel Prato Gold Quanto paghi Prato Gold 110 Mi parla Solo Beh dai Quasi a buon mercato Io ti dico solamente Che quest'anno Stiamo valutando L'iscrizione al fan club Quindi altre Come dicono i ragazzi Gambe Piotte Come si dicono Elisa Elisa Tu che sei ragazza Non lo so Non lo so Vedo Come si dice Quattro gambe Quattro pali No i pali sono i 100 Gambe anche 100 mila Non lo so Vabbè Comunque La piotte Ma credo che sotto Non la dici Cioè Sotto non ce li hai Sotto sono spiccioli Sotto sei spiccioli 45 euro Per l'iscrizione al fan club Che ti dà diritto A cosa Allora Una maglietta Allora Qualcosa di merchandising Ok Una fascetta Con scritto Vasco Qualcosa del genere Perché a Vasco Gli vogliamo bene Ma sappiamo Che non è proprio La cosa Più a buon mercato Della musica italiana Diciamo No Sì ma sicuramente Non per Vasco Più che altro Tutti quelli che C'erano mangiare Intorno a lui Sì ma Nel concerto in generale Ultimamente Cioè anche Andare su Piccola digressione Andare su Ticket One Becco Biglietti di persone Che magari Gruppi Più o meno Semi sconosciuti Che ho visto Cinque anni fa Il carro ponte A 15 euro 17 euro Massimo 20 Adesso a 40 Questo va Ok Ok Va benissimo Viva La musica dal vivo E bisogna finanziarla Bisogna aiutarla Adesso I cantanti Purtroppo Come unica fonte Di guadagno Probabilmente Hanno I concerti live E non più La vendita Del supporto fisico E gli streaming Che ti danno Quello che ti danno Però Ragazzi Bisogna anche Venirci incontro Oltretutto Adesso non mi ricordo Chi In America Ad esempio Bruce Springsteen Ha avuto una Orda di fan Incavolati neri Perché dicevano Che costavano Troppi biglietti Il concerto Di Los Angeles Una roba tipo Solo il parcheggio Costava 80 dollari Solo parcheggiare Vicino alla venue In cui c'era il concerto Infatti Molti si sono Un po' Insomma Risentiti Cioè un po' La questione Del caro concerti È una questione Abbastanza aperta Io in realtà Al momento Difendo ancora Un attimino Gli artisti Perché effettivamente È l'unico momento In cui guadagnano Diciamocelo Dalle canzoni Non guadagni più niente Come premesso Ho detto quello Lo streaming Non ti dà più Quello che ti dà Il supporto fisico In termini Di intro Di economici La musica dal vivo È viva Teniamola È stata ferma Un po' Eccetera Però adesso Alcune volte Cioè Ma non per Vasco Cioè per Vasco Io spendo anche 150 euro Però forse l'euro È proprio quello Cioè mi viene da dire Più grande sei Più in realtà Potresti costare un po' di meno Visto che tanto comunque Lo riempi San Siro Tu che sei piccolo Che è appena Iniziato l'altro ieri E mi fai fatica A darmi 50 euro Per venire al mio concerto Insomma Ho capito Che sono tanti 50 euro Però magari Io ho mille fan Cioè come faccio A guadagnarci Dalla mia musica Io quando si tratta Del rocker di Zocca Non sono mica razionale No non sei razionale Non sei razionale Ma niente So che però C'è un altro artista Che tu ami profondamente Sì Che arriva da Berlino Che non ho mai capito Se è Orange No lui è Luciano Lui è Luciano Luciano Una canzone che Ti accomuna Anche ad Abrogio Curti Ti dico In che senso Mi dice Nello Che lui ne sa di queste cose Dice Ai concerti Non si attaccano alla corrente Usano i generatori E' vero Effettivamente C'è un gruppo elettrogeni Che vanno a gasolio Quindi pensa Quanto anche Si inquina Per fare un concerto E quanto si consuma Per fare un concerto Effettivamente Sì non hanno la bolletta Della corrente Hanno i gruppi elettrogeni È vero Sono postaggiati dietro lo stadio Si vedono Anzi credo che lo stadio Abbiamo i generatori ormai interni Credo Giustamente C'è una piccola centrale elettrica Che appunto Un piccolo Signor Barnes Che va a prendere Te lo vedi La mattina Vado un attimo Al benzinaio Il signor Sassiro Esce Va con il suo fiorino Al benzinaio Che c'è qui in fondo A Vianovara Fa un po' di tanniche Quanto dura il concerto? Ah due ore e mezza Eh fai boh Fanno quindici tanniche Dai che ce la facciamo Ne abbiamo tre Che sono avanzate Da quello di Sprinty Che non ha fatto E quindi Capito Fanno così Vanno Vabbè comunque dicevo Luciano 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 Viene dalla Germania Da Berlino È un grandissimo trapper Che so che tu ami tantissimo Che ha fatto una canzone Con Sfera e Basta Questa passione per Luciano Ti accomuna D'Ambrogio Curti Che quando ha scritto Questa canzone qua Ha tolto le cuffie Ha tagliato il filo E l'ha scappato C'è proprio tagliato il filo Delle cuffie Anche perché non sa mai Che per disgrazia Le posso rattaccare Ma io sapete Che difendo invece Luciano Io ho chiesto esplicitamente Prima di venire Se si ascoltasse O meno Luciano Se non si ascolta io non vengo Eh lo sapevo Lo sapevo Allora qui alle 8.47 Su Christian Radio A Good Morning Milano La grande musica di Luciano Insieme a Sfera e Basta Con Orange Qui Good Morning Milano Lorenzo mi raccomando Adesso incomincia anche Devi anche ballarmela E cantarmela questo Tu 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 Fa così capito Come fa? Tu 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 E più o meno Va bene Saltiamolo Luciano Orange Era Luciano Orange Insieme a Sfera e Basta Eh? Non commento Vuoi andare al concerto adesso Vuoi andare a vedere Il suo concerto A un ipodromo Qualsiasi Di Sfera e Basta No di Luciano Luciano quante canzoni Avrà fatto? Non lo so In Germania Ma che è conosciuto Nel senso Mi piace sempre questa cosa Il fatto che loro Sicuramente è conosciuto Anche in Italia Non lo so Perché l'ho fatto sentire Anche dei ragazzi giovani Questa canzone Non le conosce Ah perché tu hai Il preconcetto Che i ragazzi giovani Ascoltino questo Beh ascoltino Sfera e Basta Cioè gente che conosceva Sfera e Basta Non conosceva questa canzone Mi l'ha detto Quindi insomma Capisci che Ma comunque vabbè Siamo arrivati quasi alla fine Lorenzo Siamo qua Dobbiamo Fine della puntata E la fine della stagione Fine della stagione Ma avresti mai pensato L'11 settembre l'anno scorso Quando abbiamo iniziato Ci saremmo ritrovati qua Dopo così tanti mesi A salutare Considerando che ci conosciamo Da tre anni Sì Effettivamente Non è che È considerando che abitiamo A sei chilometri di distanza È vero Sì effettivamente Un po' di poesia volevo mettere Sì no è vero È vero E soprattutto La poesia che Portano invece Da sempre Le nostre producer Del programma Abbiamo iniziato con Irene E poi è arrivata Viola E poi è arrivata Elisa Sono le nostre producer Di quest'anno Che io ringrazio Davvero tantissimo Per il lavoro che hanno fatto È stato davvero Bello Avervi tutte le mattine qui Alle sette del mattino Aprire con voi la giornata E poi Programmare E poi andare a pensare Agli ospiti che arriveranno E insomma Tutto davvero È il motivo Per cui ci si sveglia Felici Anche se Magari alle cinque del mattino Come Elisa O alle sei del mattino Primo producer È stato sottoscritto È vero È vero È vero Non sono rientrato Nella lista dei producer Perché tu hai la voce La spalla La voce Ti ricordi Come facciamo anche Le gag comiche Sì infatti Vi invito a non recuperarle Ci sono tutte Vi invito a non recuperarle E tra poco Chiederò Quando ormai sarà un po' La rimozione Esatto Sì sì Chiederò che vengano rimosse Come si chiama il tuo personaggio Che non me lo ricordo più Lo start up In difficoltà diciamo Quello era Comunque davvero Grazie mille a tutti Grazie anche Ad Alberto Che ci saluta Per l'ultima volta Di questa stagione Ciao a tutti Viva le vacanze Davvero Ma soprattutto Viva Crystal Radio La radio libera La radio indipendente La radio che ci permette Tutti i giorni Di raccontare Quello che succede a Milano E di farlo Con un po' di sorriso Ma anche Approfondendo Grazie a tutti gli ospiti Che abbiamo avuto quest'anno Grazie a tutti coloro Che erano le rubriche Con noi Filippo Poletti Tamara Malleo Ambrogio Curti Che ci racconta Tutte le settimane La sua musica Insomma tantissimi Che sono qua con noi Eri B Con i suoi appuntamenti A cui non andrebbe Silvia Gatti Che è stata con noi Tantissime mattine Portandoci degli ospiti Interessantissimi Ma davvero Tante cose Questo è Good Morning Milano Oggi Chiudiamo Good Morning Milano Ma il 9 settembre Lo riapriamo Più bello E più pulito Cosa cambia Più pulito Sì sì E no Sì sì E' un anno che non puliamo Sto studio praticamente Infatti io Tre anni ti conosco Tre stati quindi In mezzo Sempre Sempre Tutte le volte Sono entrato qua Che era ribaltato qualcosa E devo pulire Sempre sempre D'estate si pulisce tutto Quindi adesso Abbiamo già cominciato a smontare Dei pezzi Tra parentesi Già in questa settimana Abbiamo tolto il te Vedo 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 Che c'è la cassetta Di lag Sì sì Abbiamo tolto un po' di cose Per poter fare le pulizie Risistemiamo i cavi Che sono quelli Che si attorcigliano da soli Non so come Grazie anche a Nello Che ci saluta Un saluto E grazie della compagnia Grazie a Tenello Mi raccomando Vi lascio nelle buonissime mani Di Ambrogio Curti Che gli etterà tutte le mattinate Dalle 9 in poi Con Senti Questa Lorenzo Grazie Buone vacanze Ci vediamo A settembre Grazie a te Fabio Ci rivediamo il 9 settembre Buone vacanze A tutti i cristallini Ok Grazie mille Questo è Good morning Milano Che oggi chiude le sue trasmissioni Qui dagli studi di Milano News E ricomincerà invece A settembre Dagli studi di